riassunto mentre eravamo con i nostri collegucci in giro per la saccosa per dimostrare che il fenomeno del loop è reale e non ce lo siamo inventati è spuntato un mostro siamo scappati siamo tornati alla base e abbiamo deciso che faremo dei turni di due ore sul tetto per controllare che il mostro non si avvicini siamo al momento in cui ci stiamo dividendo in coppie vediamo avevo scommesso che noi saremmo finiti con nazimi vediamo che cosa succede effettivamente mi sto anche dimenticando che il controllo è scarico quindi magari lo attacco allora solo perché tu lo sappia non permetterò delle coppie con solo ragazze siamo fragili ecco infatti tu fragile in effetti piglia pugni tutti quindi proprio non ci crede nessuno che sono sia fragile ma vabbè facciamo finta so esattamente che cosa intendi oh what is san e anche il kassan sta annuendo lo sono sono una ragazza perché non perché non smettete di dimenticarvelo sì sì sicuro va bene rinuncia e l'ascolta semplicemente perché discutere con lei sarebbe solo una secatura ok facciamo coppie solamente ragazzo ragazza renderemo la cosa come si dice politicamente corretta facendo un'estrazione ok ci penso io io lo so non torna la sua scrivania e usa un righello per tagliare della 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 carta in piccole striscette e poi torna con in mano tre di ognuno ok queste sono per i ragazzi queste sono per le ragazze sono numerate dal dall'uno al tre e coloro che prendono lo stesso numero diventano una coppia i numeri sono anche i turni grazie uno ok ragazzi iniziamo l'estrazione faccio come mi dice di fare io sono il numero uno quale di voi ragazzi è il numero uno io e la cosa non mi piace nemmeno un po oh no sei tu che delusione me la sarei goduta di più se ci fosse stata yuno allora asano fuori dai giochi godertela di più e che cosa diavolo significa solo perché tu lo sappia se decidi di mettere le tue mani da pervertito su yuno ti condannerò a morte senza nemmeno anzi mi occuperò io dell'esecuzione senza nemmeno passare per il processo e così la prima coppia è stata decisa vediamo aspetta un po magari capitiamo con yuno allora vediamo 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 io avevo scommesso nazmi io sono il tre iroka part timer quale dei due dai ho perso finiamo con yuno perché in effetti dovevo immaginarlo perché c'è già stata la scena con nazmi l'abbiamo portata in spalla quindi ovvio va bene va bene va bene il tre sarei io ah essere in grado di fare la guardia assieme a nazmi che onore addirittura senza è alla maestra nazmi va bene ma 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 ah pure infame perché l'abbiamo aiutata noi non iroka ci dà degli inutili fantastica quindi iroka beh sei un po meglio di quell'inutile part timer facciamo quello che dobbiamo le sue parole mi fanno sentire un po no molto giudimerale intendo io me la sono portata sulle spalle e abbiamo corso assieme cioè ho corso via dal mostro sono corso via dal mostro e quindi noi due siamo entrambi numero due le g come facciamo del nostro meglio l'allegria innocente di yuno san mi tira sul morale ok quindi le coppie sono a posto a san e io siamo i primi quindi andremo subito faremo cambio tra circa due ore se vedete qualcosa di strano svegliate tutti il prima possibile e cercate di riposare mentre non siete di turno ma se stiamo riposando come facciamo a svegliare gli altri rivedendo qualcosa di strano stiamo dormendo cosa vediamo? i nostri sogni vediamo vabbè dopo essermi fatto un pisolino di un paio d'ore sulla mia scrivania yuno san e io ci dirigiamo verso il tetto dell'edificio è qui che si trova l'attico di uore san e il posto dove mettiamo anzi è un posto dove si può mettere la biancheria ad asciugare uore san e san osan sono ancora di turno con i binocoli in mano entrambi stanno dando un'occhiata in giro nell'aria Sekai-san, sorellina è tempo del cambio turno i due si girano e sembrano essere completamente prosciugati siete qui ok allora lasciamo il posto a voi sembra che non sia succedendo nulla uuuh 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 ok ok andrò a riposare sono stanca morta per lo più per colpa di questo pervertito sembra che il suo partner abbia risucchiato la sua energia più che il compito stesso beh non chiuderò che cosa è successo ci danno i loro binocoli quindi quindi sei con Yuno guardati come sei fortunato e fa un ghigno ma ma bene prego goditi il tuo tempo con lei se dovesse succedere qualcosa quassù sono sicuro che chiunque lo lascerebbe passare sei giovane siete giovani dopo tutto anzi io non la lascerò passare Regi fai qualcosa che non dovresti e sarò io ad annegarti nel fiume Sumida Asano San sei troppo rumorosa il mostro ti sentirà e anche per favore non prendere quello che dice Oari San seriamente non farai nulla Yuno giusto? ci crediamo non farei non lo farò non farei mai nulla in una situazione come questa ho dell'integrità morale ah 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 quindi faresti qualcosa se non fossi in questa situazione no era solo un modo di dire sono onesto andrà tutto bene non so se la stanchezza a parlare ma suona molto sospettosa di me cerco disperatamente di calmarla e di convincerla la cosa mi ripaga e sembra che finalmente capisca Yuno chiamami se dovesse succedere qualcosa arriverò in tuo soccorso subito va bene buona fortuna voi due Oari San ritorna al suo attico mentre Asana San torna dentro l'edificio in un certo modo Oari San in realtà è ancora qui sul tetto ma non penso che ci possa sentire o vedere dal suo attico ma se ci sono le finestre questo significa che in realtà siamo soli qui yes l'idea accettante mi tiene sveglio quindi pensare tra me e me in realtà mi aiuta con il nostro compito ci passiamo vicino al bordo del tetto e guardiamo attraverso i binocoli il misterioso mostro che abbiamo incontrato in città non si vede da nessuna parte almeno è chiaro che non è vicino all'edificio in cui c'è il nostro ufficio che diavolo è quel mostro comunque e invece il fenomeno mappa RP questa cosa non è normale dai su è semplicemente il programma World che è impazzito e come ci ha fatto vedere il mondo tutto distrutto adesso ci sta facendo vedere questo mostro non è difficile da capire all'improvviso mi ricordo l'idea di Ilkasan un esperimento governativo ha aperto la porta verso un altro mondo lasciando entrare il mostro in questo distretto anzi trasformando questo distretto in un altro mondo normalmente riderei ma la realtà non lo permette possiamo scappare da questo mostro riusciremo mai a lasciare Asaksa preoccupazione paura e tensione arrivano mi arrivano addosso tutti insieme io non stanno dall'altra parte invece è come se nulla fosse Reji-kun Yuno mi nemri si non mi preparato e mi preparato cos'è? cha-cha coffee aji no ca-kigol ah che carina ta-da granita al caffè beh era semplicemente ghiaccio con sopra del caffè anche in questa situazione Yuno-san non riesce a smettere di essere un po' svanita uh attenzione shade ice dai facciamo la contenta non potevo trattarla male dash granita non vedevo l'ora non è un turno di guardia se non c'è questa granita le mie parole probabilmente suonano un po' forzate ma non riesco a trattenermi a parte che lei non capirebbe se fossimo forzati ci stessimo forzando quindi è un po' vabbè nonostante la situazione nonostante la situazione nella quale ci troviamo Yuno-san si sta comportando come al solito non ho mai pensato che avrei apprezzato qualcosa di così normale Yuno-san grazie grazie Yuno-san prego ce n'è un sacco quindi mangio io non ti sto ringraziando per la granita e allora per cosa mi guarda con un sorriso genuino finalmente realizzo che sto per dire qualcosa di davvero imbarazzante cosa c'è che non va sono molto curiosa i suoi occhi chiari e angelici mi guardano e sembra che stiano brillando beh ha vinto non riesco a uscire da questa cosa mentre mi guarda in questa maniera sono troppo debole rinuncio e dico semplicemente quello che sento beh tu ti stai comportando come al solito e la cosa mi calma non posso non posso lasciare asakusa e c'è un mostro gigante che si aggira per questo posto abbiamo un sacco di cose delle quali preoccuparci ma vedere che ti comporti come fai sempre fa sparire tutti questi problemi è una cosa che ha perso molto yunosan risponde con un sorriso capisco beh prego anche io mi calmo quando tu sei vicino a me sarebbe bellissimo se potessimo rimanere insieme per sempre lei non realizza quello che sta dicendo non capisce vabbè per sempre ecco lui subito vola con la fantasia aspetta no 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 non è possibile lei è è una zuccona quindi non c'è un significato più profondo in questa cosa nascondo la mia citazione tuffandomi nella mia granita questa granita al gusto di caffè è buona ma è molto dolce ah e perché c'è un segreto nel caffè il rapporto latte e zucchero è 4-2 ma non dirlo a nessuno si avvicina e me lo sussurra nell'orecchio come se fosse il segreto più importante del mondo per lei è così vicina le sue ciglia sono così lunghe i suoi occhi sono così grandi le sue labbra stanno brillando e ha un profumo molto buono no 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 non posso lasciare che le sue parole e le sue maniere mi controllino il cuore il mio cuore in questa maniera oltretutto sta usando un rapporto strano di nuovo non è 4-2 ma 2-1 giusto? comunque nonostante tutto il suo essere se stessa in questa situazione lo trovo incredibile è davvero incredibile queste parole mi escono dalla bocca sembra genuinamente sorpresa conosci la nostra situazione non sappiamo che cosa succederà domani il mostro potrebbe attaccarci nonostante questo non sei per nulla spaventata e ti stai comportando come fai di solito e la cosa è incredibile è fuori di testa quindi non si rende neanche conto attenzione non mi capisci proprio in realtà sono molto molto spaventata mette il muso chiaramente infastidita dal mio commento ti suonerà strano probabilmente ma con tutti noi qui mi sento che andrà tutto bene forse la parola a piangere se fossi da sola sono molto debole sai io non so ok cosa stavo pensando non c'è nessuno che in questa situazione non si sentirebbe a disagio e non sarebbe spaventato io non so non si sta solo impegnando al massimo per essere se stessa e non farsi sopraffare da queste emozioni negative ma non cambia il fatto che lei sia incredibile in ogni caso l'unica cosa che dovrei fare è cercare di rendere il suo disagio e la sua paura un pochino meno pesanti giusto è vero aiuta avere tutti qua anche Warisan a dispetto di come si comporta di solito in questo momento è un buon leader Iruka san a volte non ha senso ma le sue parole strane aiutano ad alleggerire la tensione per quanto riguarda è difficile capire che cosa stia pensando a volte ma fornisce ma fornisce sempre delle opinioni razionali ed appropriate e non ha senso e non possiamo dimenticarci di Asano san ogni tanto è un po' rude ma riesco a capire che sta facendo adesso meglio per proteggere la sua cara sorella sì con persone come queste non abbiamo nulla di cui preoccuparci mentre arrivo a vedere il suo punto di vista Yuno san scuote la testa e poi sorride sta dimenticando qualcuno di importante qualcuno di importante beh tu ovviamente il suo tono è leggermente giocoso io? le sue parole mi sorprendono sì riesco ad essere me stessa non solo a causa degli altri ma anche a causa tua Yuno san è una zuccona tra gli zucconi e questa cosa non le permette di dire non mi ricordo mai cosa vuol dire flattery lusinga di lusingare flattery si può magari imparare a scrivere sul dizionario anche meglio ok quindi questo la rende incapace di dire di fare complimenti a vuoto ma io non so ma io non so fare nulla sono solo uno studente del college come tanti altri e anche qui a J7 sono solo un part timer che fa lavori strani e dai Regi Kun non capisci proprio e fa un sospiro esagerato sai che ti ho invitato io qua no ti ricordi istantaneamente annuisco come me lo posso dimenticare ho cominciato a lavorare a J7 dopo che Yuno san mi ha chiamato durante una mia visita ad Asaksa ci siamo incontrati probabilmente della Asaksa onestamente all'epoca non capivo cioè non sapevo non pensavo che mi avrebbe chiesto di fare questo lavoro part time pensavo che ci stesse provando per uscire con me quindi l'ho seguita sentendomi al settimo cielo e così prima di realizzarlo ero nell'ufficio di J7 stavo facendo un colloquio con Wari san e ho iniziato a lavorare qui come part timer in altre parole sono caduto in trappola non che fosse l'intenzione di Yuno san ma è così in realtà ho inventato molta più gente prima di te alcuni di loro sono diventati part timer sembra che non sia stato l'unica cadere in trappola in realtà non riesco ad asimarli è difficile dire no a Yuno san ma nessuno di loro è durato più di tre giorni semplicemente smettevano di venire senza dire nulla ma tu eri diverso sei stato qui dopo tre giorni quattro giorni ed anche dopo una settimana non hai smesso di venire nonostante i lavori che ti venivano dati o quello che stavi passando giusto? sta dicendo di essere una persona media che si può trovare ovunque ma adesso sei parte di Judgment 7 giusto? e questo significa che non sei una persona qualunque sei una persona importante che è sempre al nostro fianco e stando qui mi fai da effetto calmante davvero mi sta sopravvalutando onestamente volevo lasciare J7 da molto tempo anzi ho pensato di lasciare J7 molte volte prima la ragione per cui non sono riuscita a farlo è perché è iniziato il giugno degli incubi subito dopo che io ho iniziato a lavorare qua è stato un periodo di crunch così intenso che non ho avuto il coraggio di chiedere di lasciarmi andare il crunch durante lo sviluppo del videogioco è quel periodo in cui si fanno orari assurdi e si si lavora tantissimo per portare a conclusione il progetto mi sembra di ricordare una roba del genere ho persino considerato l'idea di scappare via senza dire nulla e ora di quello alla fine il giugno degli incubi è finito quindi a quel punto mi ero abituato al posto e siamo al presente tutto qua onestamente quindi si non sono speciale in nessun modo in realtà sono una persona comune e nonostante tutto le sue parole mi rendono davvero felice mi lasciano credere che in realtà io sia una persona speciale bene ci fermiamo su questa carineria e nella prossima parte vediamo cosa succede tra questi due e soprattutto come vanno i turni se avvistiamo il mostro se succede qualcosa di interessante speriamo speriamo